Si rinnova l'appuntamento con il mercatino di Emmaus con una vendita straordinaria che si svolgerà sabato 11 e domenica 12 novembre. Alla Terina, in via la Luna 1, nella sede della comunità Emmaus, è una vendita straordinaria di oggetti mobili usati. Noi siamo aperti tutto l'anno e abbiamo questo mercatino il martedì, il giovedì e il sabato. Ma in queste occasioni che organizziamo due volte all'anno verranno anche materiali particolari, oggetti da collezione, anche belli. Altro materiale che serve è proprio a finanziare la nostra realtà, che è una comunità, lo ricordo, che esiste da più di 40 anni e accoglie persone in difficoltà. E queste persone, grazie a questa attività, non solo si autofinanziano, si mantengono, ma anche riescono a finanziare altra solidarietà, altra accoglienza. Il materiale recuperato è frutto del lavoro di persone con storie difficili alle spalle e che adesso vivono presso la comunità di Emmaus. Attualmente ci sono otto persone, sono persone che hanno avuto problemi nella vita, che hanno avuto problemi con l'alcol, oppure hanno vissuto sulla strada, hanno avuto altri tipi di difficoltà. Emmaus serve proprio a questo, a dare a queste possibilità un'altra ragione di vita, per cui aiutiamo a recuperare la propria dignità di persona. Quindi Emmaus fa risparmiare la collettività perché queste persone escono dal circuito assistenziale e non solo, diventano promotori di solidarietà, che è il massimo. E questo lo si fa recuperando materiale che viene scartato dalle persone.